cari amici di seblogappsblogspot.com eccoci qua ancora oggi a vedere un altro tutorial quello di oggi io credo che sarà abbastanza breve se non l'avete fatto dovreste completare il tutorial meteo che abbiamo visto l'altra volta, comunque se non l'avete fatto potete sempre scaricare i sorgenti dal mio sito ed poi caricarli sui vostri progetti. Quello che vedremo oggi è l'elemento speech recognizer e text to speech sono due elementi parecchio semplici che però magari a volte per qualche applicazione ad accessibilità facilitata così possono essere carini da utilizzare non c'è veramente molto da dire sul loro utilizzo ve lo faccio più facilmente vedere con un esempio e così capite ancora meglio allora partiamo dal nostro tutorial meteo e lo salviamo come tutorial meteo TTS che sta per text to speech ovviamente cambiamo aspettiamo un secondo, cambiamo un attimo l'arrangement perché voglio aggiungere due pulsanti praticamente un horizontal arrangement dove ci mettiamo dentro questo poi lo mettiamo in fill parent e ci mettiamo un pulsante che sarà chiamato lo chiamiamo pronuncia città e lo chiamiamo bn per button e pronuncia premendo questo pulsante si abiliterà il text to speech e noi proprio diremo il nome della nostra città per cui vogliamo recuperare le previsioni del tempo un altro horizontal arrangement ci mettiamo dentro il pulsante aggiorna lo mettiamo in fill parent e un altro pulsante di fianco che chiamiamo invece leggi previsioni lo chiamiamo anche lui bn per button leggi ok possiamo proseguire praticamente ora manca ovviamente anche quello che vi ho detto del speech recognizer e text to speech sono due elementi invisibili quindi andranno a finire qua le ritroveremo poi solamente nel blocks editor passiamo a vedere la logica da aggiungere nel blocks editor come avrete intuito noi vogliamo che quello che viene detto venga inserito qui dentro quindi schiacceremo pronuncia città mi inserirà qui il testo che ho pronunciato ed aggiornerà automaticamente i dati con leggi previsioni voglio leggere ma giusto per fare un esempio quelle che sono le previsioni del tempo che ho appena preso da internet da quel file xml su cui abbiamo lavorato ieri allora partiamo con il nostro bottone pronuncia quindi quando premeremo il bottone pronuncia cosa vogliamo fare vogliamo lanciare lo speech recognizer che praticamente è quell'elemento che appunto riconosce il testo che viene dettato al telefono e dobbiamo chiamare il metodo speech recognizer get text questo metodo quando ha finito il suo lavoro e ci ha ritornato un valore testuale questo può essere magari leggermente diverso a seconda del modello di telefono del diciamo versione android eccetera eccetera comunque alla fine avrà e genererà l'evento speech recognizer 1 after getting text e il testo che gli ritorna è in questa variabile result quindi sarà abbastanza semplice metteremo tb città text perché vogliamo impostare tb città text a il valore result che è questo poi a questo punto io ho già un po' pensato e ho visto che era abbastanza antipatico comunque poco logico costringere l'utente a schiacciare aggiorna quindi possiamo mettere lo stesso blocco che chiama la web url e la web 1 get lo mettiamo dopo che ha riconosciuto il testo dopo che abbiamo pronunciato il testo modifichiamo anche la hint per questo text box che sarà a questo punto più carino se lo facciamo come inserisci o pronuncia la città giusto per farvi un esempio questa è l'applicazione che gira sul mio cellulare perché il text to speech altrimenti nell'emulatore non sempre va quindi adesso proviamo schiaccio pronuncia città Milano come avete visto ha preso la parola Milano clicco aggiorn e mi prende le previsioni per Milano facciamo un'altra prova caltanisetta vedete carinissimo semplice canica t ok qua c'è un problemino con un carattere perché gli accentati non risultano bene in App Inventor comunque come avete visto molto carino molto simpatico questa è la funzione come vi ho spiegato del speech recognizer quindi con un pulsante per esempio noi chiamiamo la funzione speech recognizer get text e poi su after getting text abbiamo il risultato ora ok ora andiamo a vedere la parte invece che leggerà le previsioni del tempo quindi su evento button click button leggi click vogliamo usare la funzione dove ce l'ho speech recognizer scusate eccola qua per qualche motivo non mi era comparsa comunque text to speech e anche qua possiamo impostare country language per dire se vogliamo che parli in inglese piuttosto che tedesco piuttosto che tutte le altre nostre lingue che conosciamo nel nostro caso visto che supponiamo che la lingua sia fissa mettiamo come country ita e come language it mi sembra che sia giusto non vorrei dire delle boiate comunque e qua il messaggio dobbiamo costruire praticamente un testo quindi usiamo make text perché pronuncia una sola stringa alla volta quindi cosa mettiamo su make text allora mettiamo testo città ok l'altra parte di text sarà il la label città città punto text poi mettiamo una virgola perché altrimenti lo dice troppo in fretta troppo attaccate le cose e non mi piace mettiamo che dica la temperatura label temp text poi mettiamo un un altro testo che alla fine dica che sono tot gradi e mettiamo un punto così ci aggiunge una piccola pausa e poi come ultimo mettiamo lb umidità text qua ovviamente vi potete sbizzarrire anche per non annoiarvi e non rendere troppo lungo questo tutorial lo concludo qua quindi questo blocco è veramente semplice di nuovo andiamo a vedere cosa succede quando io schiaccio adesso non so se si sentirà quando schiaccio leggi di previsioni ok non so forse non si è sentito niente aumento il volume al massimo e ci riprovo ok riproviamo Milano ok come vedete anche questo elemento il text to speech è molto semplice magari può avere l'utilità che ne so un'applicazione che ci legga delle notizie comunque praticamente tutto quello che riusciamo a mandargli dentro con una make text lui la pronuncerà potete anche provare se volete a cambiare la country e il language ok una cosa da dire se per caso quando voi fate partire l'applicazione cliccate su leggi previsioni non dice niente come è abbastanza ben spiegato anche se un po' fuori non proprio aggiornatissimo qui il text to speech dice che perché funzioni questo componente serve TTS extended service da ice free project può essere che voi l'abbiate già installato io per esempio non ce l'avevo avevo un altro text to speech che era il pico ma non era compatibile se andiamo a vedere questa pagina non c'è di grande aiuto perché sono degli APK da installare così ma si trova anche direttamente sul market quello che ho visto io che è compatibile è quello che si chiama eSpeak for Android di ice free project perché questa ice free project ha fatto altri vari altri programmi ma non non funzionano almeno sul mio telefono non hanno funzionato poi magari sul vostro lo fanno non lo so comunque se sentite muto controllate ed andate a vedere tra l'altro nelle impostazioni di accessibilità del telefono adesso spero di riuscire a farvele vedere guardiamo un attimo le trovate su praticamente allora qua si è un po' rallentato comunque menu impostazioni e sono su impostazioni vocali impostazioni di sintesi vocale dovete avere come motore questo espeak tts questo deve essere abilitato se non è abilitato lui quando premiamo il pulsante non sentiremo nulla bene questo breve tutorial è finito spero che vi sia stato sia stato per voi interessante come al solito vi aspetto sul mio blog per commenti domande valutazioni e quant'altro mi farebbe piacere tra l'altro se avete trovato carino l'articolo che cliccaste il più uno quello del per fare pubblicamente più uno e poi un'altra cosa carina che ho visto fare da altri siti che fanno tutorial per capire se apprezzate carina che magari vi costa un po' più di tempo vediamo se ne avete voglia sarebbe quella di andare su youtube oddio qua va veramente lento oggi ecco qua guardarvi i miei bellissimi filmati guardarli su youtube e dare quello che in inglese si chiama il thumbs up ovvero il mi piace così almeno capisco dei miei video quali vi piacciono quali non vi piacciono quali sono stati più utili ok questa chiudo subito che sta facendo casino per oggi è tutto ci vediamo con i prossimi tutorial se avete idee suggerimenti scrivetemi sono sempre disponibile buona giornata a tutti ciao